Di redazione Bli Ghiacciaio si scioglie, confine si sposta il rifugio del Cervino ora è per tre quarti in Svizzera Osta, il cameriere del rifugio guide del Cervino varca il confine tra Italia e Svizzera anche un centinaio di volte al giorno Ma nessuno mai gli chiede il passaporto Motivo? I reiterati espatri avvengono nel passaggio dalla cucina del locale, che si trova in territorio elvetico, alla sala da pranzo, che si affaccia sulla splendida Val Tournange, in Valle d'Aosta Tutta colpa dello scioglimento dei ghiacciai che ha spostato la linea di confine tra Italia e Svizzera Cosa è successo? Formalmente la struttura è italiana, di proprietà della Società delle Guide Alpine del Cervino Una delle più antiche e blasonate al mondo Ma ora si è scoperto che l'edificio si trova per tre quarti in territorio svizzero Effetto indesiderato di una legge del 2009 da un successivo accordo binazionale che regola il confine Un'invenzione resa necessaria dopo che con lo scioglimento dei ghiacciai sono stati cancellati punti di riferimento storici che delimitavano i territori Punto in pratica il confine coincida adesso con la linea di cresta, che nel frattempo è emersa, e che taglia a metà il rifugio e anche la diacente scuola di sci Il bar-ristorante con 40 posti letto, tappa obbligata per alpinisti e sciatori, si trova lì da 34 anni, a 3480 metri di quota, direttamente sul ghiacciaio del plateau rosa dove si scia tutto l'anno Il nodo è venuto al pettine poco tempo fa, quando la proprietà ha tentato di avviare l'iter per la ristrutturazione dell'immobile Una proceduta burocratica che rischia di essere intrappolata dal groviglio delle competenze del comune valdostano di Valturnansch e di quello svizzero di Zermet e delle differenti normative nazionali Punto è una questione che è sempre stata un po' trascurata dagli italiani, racconta Flavio Bic, presidente delle guide del Cervino, mentre gli svizzeri si sono mossi e hanno fissato il confine senza considerare la presenza dell'immobile che è rimasto più in Svizzera che in Italia Dal 2 al 4 maggio lo spinoso dossier sarà sul tavolo di una commissione paritetica che dovrà analizzare le carte geografiche e individuare una via di uscita Occorre cercare di risolvere la controversia, sollecita il senatore valdostano Albert Lannies, che ha incontrato il ministro plenipotenziario Vittorio Rocco di Torrepadula Punto ho ricevuto assicurazioni circa l'impegno dell'alto rappresentante del Ministero degli Affari Esteri, aggiunge, per trovare tutte le strade possibili che portino ad una risoluzione di questa criticità che sta causando notevoli disagi in un importante settore come quello del turismo di montagna Musica